La cantante che sto per presentarvi è stata paragonata a un'aquila, a una bellissima aquila, forse perché viene da un paesino di montagna, che è quasi impossibile raggiungere senza volare. Allora questa bellissima aquila ci canterà Non pensare a me, di testa Sciorilli. Dirige l'orchestra il maestro Bruno Martelli e canta Iva Zanicchi. Non pensare a me, continua pure la tua strada senza mai pensare a me. Tanto cosa vuoi, c'è stata solo una parentesi fra noi. Forse piangerò, ma in qualche modo bene o male tu vedrai, mi arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu. La vita continuerà, il mondo non si perderà. Non pensare a me, il sole non si perderà con te. La vita continuerà, il mondo non si perderà. Ma in qualche modo, bene o male, vedrai, mi arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu. La vita continuerà, il mondo non si fermerà. Non pensare a me, il sogno non si fermerà con te.